L'ultima su Italia, domani sarà il giorno dell'Italia, hai già parlato che l'Italia ovviamente ha i suoi problemi, abbiamo Renzi e io sento tanto dagli altri relatori che ha un po' le mani legate, cioè vuole fare le riforme però non ha veramente in sistema l'entourage giusta, l'appoggio giusto di farcela. Allora come si va avanti? La politica italiana è ancora abbastanza bizantina, diciamo così, cioè opera in un modo che non è ancora molto moderno, non è stato modernizzato e certamente il primo ministro Renzi a cui io faccio tutti gli auguri in modo che possa continuare per un lungo periodo di tempo a continuare il lavoro che ha cominciato, certamente si trova non dico con le mani legate ma rallentato da questo bizantinismo che abbiamo noi, cioè c'è una burocrazia, ci sono degli sprechi che rallentano quello che può essere fatto.